Suco di pomodoro A me gli occhi Sto entrando in un campo minato Infatti sono scarso e in santa l'uncina Sono santa e abbiamo diviso Allora, ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana Sto ballando un po' Mandi, mandi, ve lo ricordate? Mandi, mandi E beh, sì, allora, un campo minato perché La cosa buffa è che Uno degli ingredienti più usati al sud Viene utilizzato come base al nord Per fare il suco di pomodoro E spesso e volentieri viene utilizzato anche Un po' da quelli che sono i professionisti Però poi ci sono delle piccole cose che non tutti sanno Ah, non tutti sanno che E uno degli ingredienti che invece viene più utilizzato al nord Per fare questa preparazione viene più utilizzato al sud O perlomeno al sud 50-50 Al centro, quasi al 90% Viene utilizzato quest'altro ingrediente Di che cosa stiamo parlando? Dell'aglio e della cipolla Al nord, per fare il suco di pomodoro Si utilizza l'aglio come base Al sud si utilizza Al centro si utilizza la cipolla E invece al sud metà e metà E poi, comunque, sparse un po' In tutta la nostra penisola C'è chi mette tutto Tutti e due O c'è chi utilizza, per esempio, lo scalogno Che è un po' l'uno e un po' l'altro Perché ha la tonalità dell'aglio Però ha il sapore della cipolla La dolcezza della cipolla E quindi è un prodotto assolutamente buono Anche per fare quello Ma sono tutte giuste o sono tutte sbagliate? Sono tutte giuste Sono tutte giuste, sapete perché? Perché noi siamo italiani La cosa bella Non è quella di doversi legare Per forza di cose a un qualcosa A una tradizione Che poi in realtà non esiste Perché, come vi ho detto Al sud, al centro e al nord Tre maniere diversi Di interpretare questa ricetta Quindi qual è la vera tradizione? La vera tradizione è quella Che facevano le nostre nonne Non è quella che possono fare i professori Ok? E quindi Qual è il suco di pomodoro Che voi amate di più? Qual è quello che noi amiamo di più? Io per esempio Il suco che amavo di più Lo faceva la zia Maria Cioè una mia zia Ero ragazzino Adesso sono tanti anni Che non c'è più Però quando ero ragazzino Mi ricordo Che lei faceva questo suco di pomodoro Così E tutti quanti Rimanevamo riaffascinati E quando lei lo faceva Mandava via tutti Però a me Mi diceva E qua Fai qua Guarda come si fa Non era calabrese Era abruzzese E faceva Dal mio punto di vista Ma non solo dal mio Era tutti quei punti di vista Di tutte le persone Che lo provavano Un suco fantastico Meraviglioso E metteva delle cose Che ai più Potrebbero fare così No Però No Invece fanno Provalo Adesso io vi faccio conoscere Il suco della Signora Maria Che poi era la zia Maria E bene Dai allora Andiamo a vedere E cominciamo dunque La nostra Preparazione Wow Wow Mamma mia Quando è bella Oggi andiamo a fare Questa versione Con la cipolla E l'aglio Quindi andiamo a preparare Mezza cipolla Rossa Bella Cipolla di tropea Sono l'ideale Per questa preparazione Non esagerate con la cipolla Perché altrimenti Questa cipolla è molto dolce E poi adesso faremo Una lavorazione particolare Che farà in modo Che tirerà fuori Proprio la sua dolcezza Però è importante Questa dolcezza Perché ci permetterà Di non mettere lo zucchero Quindi per andare A pareggiare E bilanciare Quella che è L'acidità naturale Della salsa di pomodoro Gli ho aggiunto dell'acqua E gli metto anche Dell'olio extravergine di oliva Ora Teniamo il fuoco Bello vivo E facciamo rosolare bene Quando la parte di acqua Che abbiamo inserito Sarà evaporata E comincerà A sfrigolare Quindi c'è rimasto Soltanto La parte di olio All'interno A quel punto Possiamo andare A mettere dentro Lo spicchio d'aglio Lo mettiamo intero In camicia Senza schiacciarlo Con la sua pellicina Come potrete notare Con questo passaggio Quindi con l'aggiunta Di acqua La cipolla Si è praticamente sciolta E sta rilasciando Quella che è La sua cremosità E il suo sapore Quindi prenderà Il nostro sudetto Un sapore Spettacolare Fantastico Ora andiamo ad aggiungere La salsa di pomodoro E teniamo il fuoco vivo In questa prima fase di cottura All'interno del barattolo Del contenitore Andremo ad aggiungere Dell'acqua E lo riempiremo Per circa metà Del suo volume Lo andremo a sbattere bene Andremo a recuperare Tutta quella parte Di salsa di pomodoro Che altrimenti Rimane all'interno Del barattolo Quindi in metà Lo agitiamo bene E lo inseriamo All'interno Quando riprenderà Il bollore Andremo a mettere Il nostro sugo Di pomodoro Nel fuoco più basso E lì faremo La cottura Per i 45 minuti Aggiustiamo anche Di sale Ovviamente Ad occhio nudo Si vedono già Le fasi di cottura Del sugo Vedete Piano piano Prende Si consuma l'acqua La parte di liquido Ed è perfetto Ora Sono passati 45 minuti Spegniamo il fuoco E andiamo ad aggiungere Il basilico A fuoco spento Aggiungiamo il basilico Il basilico Non deve cucinare Si inserisce A crudo E così Abbiamo praticamente Fatto e finito Il nostro sugo Di pomodoro Prima di essere utilizzato Il nostro sugo Ha bisogno di riposare 10 minuti A fuoco spento Con il coperchio All'interno Della nostra pentola Lo facciamo riposare Dopodiché Andiamo ad eliminare Lo spicchio d'aglio Una volta che abbiamo Eliminato lo spicchio d'aglio Lo assaggiamo Vediamo se va bene Di sale Se va bene Di sapore Se va bene Di tutto Insomma Se ci rendiamo conto Che è un po' acido Non facciamo nient'altro Che aggiungere Un cucchiaino di zucchero Per andare a bilanciarlo Andiamo dunque Ad impiattare Mettiamo Il nostro pasta Un po' di basilico Un filo d'olio extravergine Di oliva E poi una bella Spolverata di parmigiano E perché no E perché no Scoliamo bene Yamma ya Così come mi piace a me Mamma mia Quando è bella Ah si Mmm Mmm Ah che profumo Che profumo Una volta che è così Come vi ho detto Bella sciogosa Bella sciogosa Track E via E adesso E adesso si Si può mangiare Vediamo Sarà buona Non sarà buona E non lo so E non lo so Però io La proverò La proverò Un po' di peperoncino Però ci stava bene Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che ricordo Che buona Come c'è la mia mamma Così Con il cucchiaio Che c'è la mia mamma Ciao Alla prossima Buona vita di cesta. Buon appetito.